In teoria dovevamo andare al pub e poi il pub è chiuso guardate dietro il mettego atmosfera da qui no infatti non si vede una cippa di niente cippatori cellulari notate il cinema completamente vuoto ho sentito il rumore ma perché non lo senti questo cigoglio contigo forse era meglio che stavano zitto andiamo là ma tu sei scema almeno là guarda se me fai film dei zumbi porco frisci oh cazzo perché fa un colpo mi sembra mi sembra sai cosa sei progettiero con la fotocamera progettiero io faccio l'incidentato bravo vai 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 addio se questo è l'ultimo video beh fottetevi tutti che gioia sarò che gioia sarò è inquietante oh maria dobbiamo fare il protagonista che ti moda c'è sti cazzi mi sta mettendo ansia da sola qui c'è il gaberano non per dire putta mia mano si è accisa la luce da sola aspetta mi sto cagando in mano si è spinta da sola mi sta cagando in mano mi sta cagando in mano mi sta cagando in mano ti guardiamo anche dietro riprendici dietro ma che oddio bello fare una malattia in versione fare una duriana sta cagando buccio è già sta cagando le cose non doveva fare questa forza nel terreno io quando basta vado avanti abbiamo resistito solo tre minuti mi sono fatto male tre minuti io bello capisci a me li fanno però le stelle inizie vabbè vado avanti scusami prego fatti 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 non le freddo ma prego vai qui no vado avanti qui vado avanti vado avanti vado avanti le freddo vado avanti Ok Andiamo appena in giro il paderno Sì Ci dovrebbe uscire qualche barco aperto Documentiamo il paderno Documentiamo il paderno Eh sì, ne stiamo